Paolo, che ci fai qui? Simone mi tradisce. Sì, vedi, vieni. Come l'hai saputo? Ho trovato i messaggi. Tipico. Da due anni. Però? Sì, non mi avete distrutto. Adesso, calmati. Piuttosto mi stupisce che non sia successo prima. No, veramente era già successo prima. Ah. Sì, sono andato a fargli una sorpresa al ristorante e l'ho trovato col cameriere. Mai fare sorprese. 22 anni, il cameriere. Sì, mamma ha detto che era solo una robetta così, un'attrazione erotica e che non l'avrebbe mai più fatto. Invece? Adesso che farà? Cioè, dovevamo festeggiare il nostro anniversario. Divorzierà, mi lascerà, che farà? Senti, io sono tua sorella. Sai quanto ti voglio bene? Sai quanto ti ammiro? Sai che farei qualsiasi cosa per te? Ma io al posto di Simone ti avrei già mollato da un pezzo. Monica! Eh sì, eh. Da quando è nato Leone non hai pensato altro che occuparti di pappe, pannolini, pediatra, vaccinazioni. E poi la scuola, i compiti, gli insegnanti, i corsi di inglese e i corsi di cinese. E tutto il resto. Volevo essere un buon genitore, una colpa questa? No, certo, ma sei diventato noioso, prevedibile. E poi guardati, avrei messo su almeno dieci chili. Sette. Dieci. E dove è finito il vostro rapporto? Dove, Leros? Eh, Leros. Stiamo insieme da vent'anni, pensavo che la nostra relazione si basasse su altro. Sull'amore, almeno, credevo. Eh, parliamo d'amore, allora. Da quanto tempo non guardi Simone negli occhi? Da quanto non lo abbracci? Da quanto non gli chiedi come sta? Quali sono i suoi pensieri, le sue paure? È che abbiamo poco tempo. Devi dedicare più tempo al vostro rapporto e meno alle cose inutili. Parlo per esperienza. Carlo. Carlo. 26 anni, insegnante di yoga. Tette come due mele verdi attaccate al ramo, snodabile come un manichino e un culo sodo come il marmo. Carlo. L'ho beccato in macchina sotto la scuola di yoga. Lei era nella posizione chiamata pompina al guidatore, sta zoccola. Carlo. E che cosa hai fatto? E che avrei dovuto fare, secondo te? Distruggerlo, divorziare, togliergli tutto, lasciare le mutande. No. Invece l'ho perdonato. L'ho perdonato perché ho capito che era anche colpa mia. Anzi, sai cosa ho fatto? Gli ho proposto un trisomo. Cosa? Una cosa a tre. Sì, sì, lo so cos'è un trisomo, ma... Tranquillo. Quella zoccola ha rifiutato. Il punto è che non mi sono arresa. Ho combattuto per riconquistarlo e ce l'ho fatta. E fuoco dopo un regalo dal cielo e è nata Clarissa. Ma dove l'hai sentita questa parola? Sì, ho mai ne antenne. Ma fila a letto che domani hai scuola. I mariti, a te etero omo, toglierlo solo un po' di fantasia. Se tu ci tieni a lui, combatti. E domani celebrate il vostro anniversario come da programma. Non ti arrendere. Non ti arrendere, fratello mio. Io sarò con te. E ora torna a casa prima che torni lui. Vai, vai.